In primo abbiamo, prego Mario vieni, abbiamo una musica, abbiamo Mario lo spaccarotule, cioè so più spietato di, scusa vado, leggo, di Bastianich, grazie, grazie, di qua vai pure, poi abbiamo Loris, lo schiacciamignoli che chiede, Loris con scritto, mamma che paura, ma che sono veri questi, pure questi, Zolletico Nuntedemo, poi abbiamo Gian Lorenzo, Gian Lorenzo lo strappa peli del naso, Lorenzo, ZTL, ne fa una pippa, scusa, scusa, volevo dire che io ho un armadio così a casa, lo tengo in nessun giorno, Katia quando leggi i tatuaggi romaneschi sembra Massimo Boldi un tempo di qualche anno fa, che schifo, grazie, 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 che roba, e poi, occhio, occhio, e poi l'ultimo abbiamo Sparta, in tritta ossa, in tritta ossa, sparta che mi fa una paura, mi fa una paura, scusa, ah no scusami, bicipite indostai, e, scusa, datemi da mangiare, ammattia il piccoletto, va che gli mena, va brutto il piccoletto, guarda anch'io come sono cattiva, guarda, eh a pettorali, lascia fare che, poi dicono che non ci sono i polli in giro, se li mangiano tutti loro, chissà quanti anni è che mangiano il pollo, grazie ragazzi, grazie mille, molto bene,